SACCOMANNI 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 Francesco Schettino costretto ad abbandonare la costa Concordia, lo rivella l'allievo ufficiale Stefano Iannelli al processo grosseto al comandante per il naufragio di fronte all'isola del Giglio il 13 gennaio 2012. Schettino non fu l'ultima persona ad abbandonare la nave da crociera, ma non poteva nemmeno rimanere a bordo, ha detto Iannelli in aula. Saltò sul tetto di una scialuppa al ponte 4 pochi istanti prima che la nave si ribaltasse e il ponte venisse sommerso dall'acqua. Una volta a terra non avrebbe nascosto la sua disperazione. Che cosa ho fatto? Le parole del comandante. Ho finito di navigare.